Innanzitutto una cosa utile sarebbe andare ai festival, a farci un'idea. Se tu ci vai o se una persona nella tua situazione ne ha visti alcuni in Italia e all'estero, si è cominciato magari a fare un'idea e soprattutto ha magari conosciuto delle persone che, come dire, ci vanno più spesso, ne conoscono di più, li conoscono meglio e magari sono la prima fonte per avere dei consigli, delle indicazioni. Io la prima cosa che ti direi, non cercare su Google, ma guardati intorno, chiede delle persone che fisicamente sono state in un luogo, magari un regista che ha già avuto un'esperienza simile, per cui ti puoi dire guarda che sono andato lì, è stato interessante perché il pubblico ha fatto delle domande, c'era un moderatore con cui abbiamo fatto un incontro molto ricco di spunti, c'erano dei produttori, che ne so, ero in Austria e c'era però lì, contemporanea al festival, organizzava un incontro di produttori per cui la sera a cena mi hanno presentato tre persone che cercavano, non so, un operatore perché il prossimo filo vogliono fare in Puglia e ho conosciuto, le cose succedono in questo ambito molto in questo modo. Io direi, la prima cosa è avere delle fonti di prima mano, perché poi anche i siti dei festival, siamo tutti bravi a scrivere, a aggiungere uno zero quando si dice quante presenze ci sono state o a scegliere apposta le foto che mettiamo sui nostri siti web per farti vedere quanto la gente si è divertita, quante persone c'erano e magari poi ci sono festival che risultano deludenti come esperienza, poco produttivi, oppure diventano il posto addirittura sbagliato dove presentare un film e questi esempi non mancano. Questi avori si possono comunque fare, succedono, succede comunque di farli, succede comunque di arrivare, di fare le scelte sbagliate oppure di arrivare impreparati nei posti giusti, perché è l'altra cosa. C'è un po', secondo me, una situazione che è tipica anche italiana, in cui molte persone come te, che probabilmente il tuo film te lo sei prodotto, o comunque è una piccola struttura, fuori da un sistema di sostegno riconoscibile e affidabile, faccio un esempio, se tu fossi finlandese piuttosto che portoghese o rumeno, faccio un esempio, e avessi fatto il tuo primo cortometraggio, questo primo cortometraggio, o quello che è, insomma, un film di un'ora, non so quanto può durare, probabilmente sarebbe stato comunque seguito in qualche modo da un'agenzia nazionale di promozione del cinema, sarebbe stato comunque rubricato in un catalogo di progetti in corso. Una volta che il tuo film è quasi finito, probabilmente avresti avuto un incontro con dei tutor di quella struttura che ti avrebbero detto, ok, fammelo vedere, secondo me qui puoi lavorare sul montaggio, aspetta, chiamiamo un tecnico del suono che ti può dare un consiglio su questo messaggio che così com'è non ci sembra che funzioni, delle persone che hanno un'esperienza specifica e che ti sapevbero aiutare. Poi una volta finito il film avrebbero saputo anche darti quei consigli, aspetta, ok, allora noi lavoriamo, il nostro compito è promuovere il cinema finlandese nel mondo e un film come il tuo è perfetto per questo festival, proviamo qui, aspetta, non fare cazzate, non mandarlo tu a caso in giro, cercando su Google, ma cerchiamo di avere una strategia e di impostarlo, oppure lo farebbe il tuo produttore, se hai un produttore che ha un'esperienza e ha avuto festival precedenti in questi contesti e ti sa dire, proviamo qui, lì non ha senso, oppure a Locarno c'è Sergio Fant, a lui gli piace sicuramente questa cosa perché è un tipo di film che a lui può interessare, proviamo a mandaglielo. Per cui la fonte più importante è l'esperienza e le conoscenze delle persone che tu puoi avere intorno o che puoi raggiungere. Perché appunto si tratta anche di leggere certe informazioni al di là del prestigio. Ovvio che tutti vogliono andare a Venezia e a Cannes, ma può essere che non sia il caso. Uno perché il film onestamente non è all'altezza e per arrivarci a Venezia Cannes, insomma, un po' di strada bisogna farla. O può anche essere che proprio sia il posto sbagliato, che è come dire che un film troppo piccolo, troppo particolare, non trovi lì il pubblico giusto, l'attenzione, magari venga visto nel contesto sbagliato nel modo sbagliato e magari cestinato da due critici che sono le persone sbagliate, che non sono quelle che dovevano vederlo e magari in un altro festival diverso avrebbe trovato un blogger, capito, che magari non scrive su un quotidiano nazionale, che però era la persona giusta, che poteva far partire, non so, una eco su certi social network, che aveva contatti con certi programmatori all'estero di altri festival, che potevano dire ah, ma se Andrea ha scritto che questo film qui, magari proiettato a Bari in un garage, è il film dell'anno che a Bari non si era mai visto un film del genere e io conosco Andrea, seguo il suo blog, magari siamo incontrati a Torino al festival, mi è sembrata una persona sveglia e io sto, che ne so, a Monreal in Canada e non è facile per me capire che film italiani ci sono interessanti per il mio festival, mi può interessare e dire aspetta, andiamo a vedere che film è questo qui, perché ne ha scritto lui e magari è una persona di cui mi fido e vale la pena che lo veda, per cui i contesti sono anche da valutare insomma e secondo me la cosa principale è parlarne con delle persone, condividere il film, farlo vedere, anche se non è finito, persone di cui hai fiducia o persone che ti senti, come dire, di poter disturbare, perché poi ovviamente devi chiedere del tempo, dell'attenzione e io ti dico che a me succede di farlo, perché ho sviluppato, come dire, un rapporto di fiducia con delle persone o delle persone che si interessano al mio parere, ai miei consigli, ovviamente non è il mio mestiere, quindi non posso fare sempre quello perché non ho il tempo per non fare più il mio lavoro, però per una serie di persone, di registi a cui tengo e per i quali credo vada fatto questo lavoro di sostegno, perché altrimenti magari i loro film rischierebbero di essere, di smarrirsi o di non avere l'attenzione che meritano, lo faccio, lo faccio proprio come una questione di rapporto di fiducia e di sostegno, insomma, non perché me lo ordini Locarno, Trento o il dottore, insomma, per cui la prima cosa è, e poi l'altra cosa, quindi una è la, quanto adatto è il tuo film a quali festival, quindi pensarci bene, non mandarlo ovunque, perché non serve, cioè non serve, capito, avere la prima proiezione del tuo film a un festival in Bulgaria, ci può andare l'anno dopo, insomma, cioè non è, non ha senso far partire a tappeto, ok, pronto il film andiamolo a 50 festival, poi magari i primi che ti dicono di sì sono, non so, un festival in Olanda, in un paesino dove tu vai, dici, ho fatto la prima mondiale di mettere le foto su Facebook, ti sei divertito quel weekend, dieci giorni dopo ti chiama a Rotterdam e ti dice, ah abbiamo ricevuto il film, ci è piaciuto, ma non c'è, però l'avevi fatto la settimana scorsa a Groningen, insomma, ah però noi i film, dovremmo averli, insomma siamo il festival di Rotterdam, ci potrebbe averli, sì, non in esclusiva però che non l'abbiano fatti, capito, due strade più in là, per cui anche quello è un errore a cui fare, da evitare, insomma, per cui conviene provare certe cose, poi, come dire, il fatto che se poi non funziona un primo giro di tentativi, se ne fa un altro, si adattano un po' alle ambizioni, ovvio che tutti vorrebbero, è giusto che tutti i registri siano convinti di avere in mano il film che deve spaccare il mondo e sbaragliare, però onestamente non è sempre così, per cui ci sta anche di provare con una serie di opzioni e poi adeguare le proprie aspettative a quello che oggettivamente si riesce ad ottenere. E non è detto che partendo appunto da festival, da palcoscenici meno visibili, meno noti, poi non si trovi un percorso che porta poi altrove, insomma, questo è... Però sì, è vero che sono valutazioni, ad esempio, ho cercato un... Cioè, ce l'ho il film su un hard disk, però dura troppo, perché dura 35 minuti, è un... Adesso lo... vabbè, poi ci arriviamo, è un film, è un esempio legato a Venezia, ed è ancora un... dal 2010, è ancora un mio cruccio questa cosa, perché uno di quei film che diciamo prima, che spunta dal nulla, è un film della Repubblica Ceca, è un film di diploma alla scuola di cinema di Praga, che si chiama FAMU, è una delle scuole di cinema più, insomma, più note, più anche stimate in Europa. FAMU è la sigla, che non so esattamente in cieco per cosa stia, a parte la F per film, immagino. E arriva questo film molto divertente, con un'atmosfera, apparente, che ricordava alle Nouvelle Valle, gli anni 60, in una leggerezza, un'eleganza che io non... non vedevo da anni, con un personaggio stralunato, un delle situazioni completamente surreali, un'ironia che, insomma, faceva ridere, allo stesso tempo era drammatico il film. Cioè, un oggetto veramente strano, girato, credo, in 35 mm, con una luce, una... Io, insomma, mi innamoro di questo film, che si chiama Girl 180, perché tutto il film è sulla ricerca di questo personaggio, che è un tappo alto così, che ha l'ossessione delle donne alte 1,80 m, che non mancano in Repubblica Ceca, per cui, insomma, ha questo programma di essere eccessivamente stimolato, insomma, dalle sue ossessioni. Quindi, vedo questo film, mi innamoro del film, non so, naturalmente il regista è sconosciuto, perché è un regista che fa un film di diploma, per cui avrà fatto prima qualche cortometraggio, queste scuole di cinema spesso funzionano che si fa magari un film all'anno, durano tre anni, durano quattro anni, insomma, si fanno uno, due, tre corti e poi magari si fa un film un po' più lungo per il diploma, prodotti tutti dalla scuola. Però, a meno che uno di quei cortometraggi, come dire, di studi non abbia avuto un successo particolare, sono tutti nomi di registi che non si conoscono, questo tipo si chiama Thomas Milnik, quindi vedo questo film, meraviglia, lo condivido, il collega che lo vede con me anche lui dice, ma che film mai visto, è una cosa stranissima, sembra veramente un film che è uscito da 40 anni fa, una freschezza, però che sembra una cosa del futuro. Qui andiamo a fare una ricerca, ma chi è questo tipo, chi è? Spuntare questo film è avuto una proiezione in un festival portoghese, che non è nemmeno uno dei principali, in cui quell'anno lì avevano un programma di scuole di cinema e la scuola di cinema cicoslovacca aveva mandato tra un pacchetto di film così X, anche quello. Allora, a Venezia purtroppo c'è una policy, come dicono, molto rigida, cioè i film devono essere in anteprima mondiale, che rende il lavoro molto difficile, perché quel caso lì è un caso in cui non si è potuto mettere il film, ed è un film che vi giuro è morto, cioè è un film che non ho più visto in nessuna parte. Evidentemente il regista ha avuto altri progetti, poi ha voluto fare altre cose, so che sta girando un film intanto in Italia, che dovrebbe aver quasi finito, perché però vedi, siamo amici su Facebook, perché da allora io questo qui voglio sapere cosa fa, cioè voglio seguire, e anche quindi se quel film lì non ha avuto la visibilità, però io ho un nome che non mi dimentico, me lo sono segnato e sto seguendo quello che sta a distanza, certo quello che sta facendo. Però in quel caso lì, questa maledetta proiezione di questo film in Portogallo, che c'erano state 20 persone, mi ha impedito a me di programmarlo a Venezia e probabilmente di dargli una chance al film e a lui, perché onestamente in una situazione come a Venezia, ma anche a Locarno, non dico che cambi la vita delle persone, però onestamente qualcosa può cambiare sul serio, se un regista poi è sveglio e sa come sfruttare un'occasione del genere, ed è il caso poi di cui parliamo. Per cui, insomma, sono cose da valutare, sia che quale festival, ma anche in che ordine, cioè con che priorità, e fare attenzione, quello è un caso particolare, probabilmente la scuola l'aveva mandato, questo qui manco lo sapeva forse, per cui non è il tuo caso, perché durante il film ce l'hai tu e sai dove va e dove viene proiettato. Però, insomma, era per farti un esempio molto concreto di quello che può succedere. Una domanda, non so se adesso, perché vorrei fare una domanda dall'altra parte, dal lato dei festival, in questo caso c'è anche Maria, con cui abbiamo organizzato questa prima edizione di questo festival, si chiama I Trajefi, il festival in un paese a gioia del colle, sul festival di genere, sull'immigrazione, insomma, concetto di straniero camussiano. Noi abbiamo fatto un festival di corti, ne abbiamo selezionati una, 27, 22, sì, sono arrivati 300, sì, sono arrivati tramite questi portali tipo Click for Festival o Fest Home. Volevo sapere tu cosa ne pensi di questi aggregatori di… Io non li ho mai usati, un po' perché ho lavorato su festival, come dire, situa Venezia, ovvio che io, quando ho lavorato a Venezia, avevo la casella e-mail piena di gente che promuove queste piattaforme, perché non vedevano l'ora naturalmente di dire, noi siamo quelli che partner, che forniamo i cortometraggi alla mostra di scena di Venezia. però arrivo anche in una posizione in cui potevo dire, no grazie, nel senso che se un festival come Venezia, come Locano, come Cannes viene fuori o dà l'immagine di non avere le forze, il prestigio sufficiente per fare la sua selezione e ha bisogno di una piattaforma e di un sistema esterno, cioè non sarebbe una questione molto positivo per il profilo della manifestazione. Poi ci sono festival di altre dimensioni e di altri obiettivi perché il vostro obiettivo era fare un evento in una città che doveva funzionare, attirare un pubblico, generare una discussione, riempire una sala, per cui secondo me ha senso usare gli strumenti che ti evitino di fare dei viaggi inutili, spendere dei soldi, perdere del tempo e magari riuscire a fare in modo più efficace. Ecco non so, nel vostro caso visto che era un festival comunque con un tema, non riesco a immaginare quanto le persone non abbiano come dire cliccato un po' a caso mandandovi il film. Cioè c'è stata anche questa, però insomma vedendogli, abbiamo visti tutti, anche là il discorso che ti facevo prima sul vedere la bio o quanti festival ha partecipato, però c'è stata la tentazione. Noi abbiamo selezionato un film che veniva fuori dalla scuola di cinema belga che non era uscito da nessuna parte e si è avuto una menzione di cinema d'autore perché era molto molto bello. Tra l'altro non siamo riusciti manco a entrare in contatto poi con il regista per comunicarglielo perché evidentemente è scomparso. Per dire, il caso di Trento che è un festival che ha ambizioni diverse, è un festival molto più che ragiona su un territorio che è molto popolare in Trentino in generale, anche nel Trivennes, c'è molta gente che ci viene perché è un festival che racconta soprattutto il mondo della montagna, dell'ambiente, per cui ha una nicchia di pubblico molto precisa e quindi è molto frequentato, però allo stesso tempo non ha l'ambizione di avere dei film in anteprima internazionale, non ci serve niente, non possiamo aspettare un anno, non è che quel pubblico che abbiamo lì ci chiede, non è un pubblico di specialisti, di critici internazionali che dice, ma che palle di questo film qui, l'ho già visto a Toronto, a Cannes e a Berlino. Per cui siamo più liberi, è l'esempio del vostro festival, siete liberi, non avete esigenze, come dire, certo se ti capita il film che sei il primo a scoprirlo, è un piacere dal punto di vista di chi programma il festival, però l'importante è che funzioni la programmazione. Ma in quel caso lì capisco che guardare il record dei premi che ha il film, insomma, ci sta. Io quando vado in libreria, magari un libro che ha vinto un premio, oppure non so, è nella fascetta, c'è il commento di un critico di cui mi fido, magari sono curioso, ci sta. E poi siamo, come dire, nel, la chiamano, ho letto questa definizione, the age of curation, che nella fase in cui c'è questa grandissima sovrabbondanza di contenuti, siamo sempre più dipendenti da qualcuno che ci aiuta a selezionare. Prima, quando la nostra libreria era, la libreria, scusami, guardo intorno, cercando qualcuno che possa capire di cosa sto parlando, forse tu, insomma, era la libreria della città, la nostra scelta era limitata a quegli scaffali lì e probabilmente potevamo avere noi o con l'aiuto del libraio un'idea di più o meno quali fossero i temi, quali fosse il libro giusto da pescare. Nel momento in cui affronto il catalogo di Amazon, probabilmente mi serve un blog di un critico letterario, di un gruppo di lettori a cui mi appoggio, da cui trago delle informazioni che mi servono a scremare. Per cui questa idea di curare e programmare dei contenuti sta diventando sempre più un servizio che poi si basa molto sempre di più sui social network, c'è un'idea di condivisione di suggerire, tutto Facebook è così, c'è qualcuno che ti suggerisce di leggere una cosa, di guardare una foto, di controllare un video, c'è qualcuno che seleziona dei contenuti per te e tu in qualche modo l'hai autorizzato a fare questo lavoro sulla tua pagina. Per cui il discorso dei film, dei premi è sicuramente uno di quegli aspetti, se un festival riconosce con un premio un film, magari lo guardi con un occhio di riguardo. Ti devo anche dire che a me ci sono dei, se un film vince un premio a un certo festival, magari dico, ma lo voglio manco vedere, perché quel festival lì so che tipo di film può premiare. Cioè, se cominci un po' a avere dimestichezza con lo scenario... Quindi bisogna in qualche modo direzionare, far vedere qualcosa che hai visto o provare... No, ma verrà automatico, cioè, non so, era la prima edizione di questo festival? Sì. Magari l'anno prossimo, già saprete che, non so, se verranno dei film dalla scuola di cinema, di, che ne so, da quel posto lì, l'anno scorso venivano mandati i 20, facevano tutti schifo, magari quest'anno ci perdete meno tempo. Cioè, è una questione di maturare una conoscenza e poi di usarla per rendere più efficiente e più produttivo il lavoro successivamente, insomma, cioè, di perdere meno tempo e di usare il tempo che si risparmia per investirlo magari in nuove ricerche, in dire, ah, sai che l'anno scorso c'erano due film dal, che ne so, dal Kazakistan, che io manco sapevo che nel Kazakistan facessero questo tipo di cose, e quest'anno magari, come dire, le due ore risparmiate con la scuola di cinema tedesca, che l'anno scorso vi ha mandato 20 commedie, lì investi, vi aspetta che mando delle email, ah, ho scoperto che in Kazakistan, quel posto lì, c'è una scuola di cinema, e gli mando una mail e cerco di avere altri 5 film, che magari, che ne so, che quest'anno faccio un programma sul cortometraggio dal Kazakistan, e magari a quel punto sono io il primo che lo fa, e anche lì poi sono rapporti che si coltivano, perché nel programma del cortometraggio kazako, magari c'è un giovane regista che tu conosci in questo modo, che comunque voleva venire a farsi un viaggio in Europa, e parte dal Kazakistan con il sacco a pelo, sta una settimana a Bari, e 5 anni dopo è a Cannes con un film, cioè, e quel film lì magari siccome si ricorda che tu sei stato il primo a programmarlo a Bari, magari dopo Cannes ti chiamo e dici, io voglio tornare a Bari, facciamo l'anteprima italiana del film, lo vengo, lo proiettiamo a... succedono queste cose, cioè, è tutta questione di investire del tempo, fare delle ipotesi, costruire dei rapporti, che poi nel tempo, che ne sai, alle tranche, festival 2020, tu hai l'anteprima italiana del film da Cannes, una settimana dopo, perché il regista, e magari riesci ad avere l'articolo sul quotidiano, che quest'anno non hai avuto, magari perché, onestamente c'era una programmazione che non era fatta per avere quella visibilità, però insomma, secondo me sono tutte cose che in parte si possono pianificare, in parte vanno, come dire, va coltivato, va seminato, e poi ogni tanto qualcosa può... può uscirne... In linea generale, i criteri di selezione di festival, quali sono, vabbè, questi sono quelli tematici, ovviamente, però in linea generale, per capire effettivamente come funziona dall'altro lato? Lì, dipende anche questo dal festival, per dire, io a Venezia, a Orizzonti, sono stato chiamato appunto perché si voleva rinnovare abbastanza radicalmente la programmazione dei cortometraggi a Venezia, che veniva da una fase un po' di stanca, insomma, cioè questi cortometraggi venivano programmati gli ultimi due giorni del festival, tutta la gente, quelli sopravvissuti che erano al Lido ormai non ne potevano più, la gente si addormentava in sala costantemente, c'era poca... sì, i registri erano contenti che avevano un cortometraggio a Venezia, ma l'impatto poi sulla programmazione del festival, il contributo era scarso, per cui è stato deciso comunque di cambiare e di cambiare anche il tipo di film che si cercavano, quindi non più cortometraggio di qualità, d'autore, da scuola di cinema, ma magari quello che si è chiesto a me era di aprire affronti diversi, quindi le arti visive, film creati da artisti, film sperimentali, film ibridi che giocassero tra generi, tra documentario e finzione, animazione, tecnologie digitali, insomma, sfondando un po' quei confini un po' paludati che c'erano prima. In quel caso lì era abbastanza chiaro quello che dovevo cercare e non era semplicemente una questione di qualità, ma anche di tipo di opera, cioè come dire, in un certo senso l'originalità era più importante della qualità, nel senso che se c'era un film drammatico di 20 minuti, ben costruito, ben recitato, con una performance d'attore, una sceneggiatura scritta, probabilmente a me non interessava, perché non era quello che quel tipo di programma lì doveva fare, magari quel tipo di cinema lì c'era in concorso, non so, c'era un grande film d'autore, c'era un film, non so, di Mike League, c'era un film con una sceneggiatura solida, uno dei grandi attori che... oppure, non so, c'era un film realista, dei Dardenne, con uno sguardo... per cui era inutile avere, come dire, le copie in sedicesimo nella sezione dei cortometraggi che facevano un po' lo stesso discorso. In quel caso lì era abbastanza chiaro che tipo di film dovevo cercare, dovevano essere film che non erano... che fornivano delle prospettive completamente diverse rispetto al resto del programma. Nel caso di Locarno, ad esempio, un altro fattore è l'originalità. Cioè, Locarno, ad esempio, è un festival che, per tradizione, è sempre stato un festival di scoperta di nuovi autori, di cinema, di giovani generazioni, ha sempre stato uno dei primi festival a dare spazio alle nuove bug, alle nuove tendenze, alle new wave del cinema mondiale. Si presuppone che continui a fare quello, perché è la sua identità più forte. Per cui anche lì c'è l'ottavo film del regista che ne ha fatti sette, tutti più o meno uguali e che anche l'ottavo è bello, ma dici, ma c'è proprio bisogno? È un bel film? Sì, magari esce, è un bel film, ma magari sto cercando piuttosto un'opera prima che mi faccia scoprire qualcosa di nuovo. Dipende molto dal contesto in cui sei. Se sei a Cannes e sei la persona, se sei da un festival come Cannes, se invece sei a L'Etrange, al festival di gioia del Colle, sei più libero ancora. Allora puoi dire cosa voglio fare, te lo puoi chiedere tu. Voglio cercare dei film che abbiano, lavorino o che dialoghino con il concetto di estraneità, di straniero. Ovvio che, secondo me, la qualità rimane sempre uno degli ingredienti. Devi capire, in che percentuale della fetta di torta, diciamo, ad esempio, il caso di Trento, ci deve essere comunque l'aspetto dell'ambiente, della montagna, deve essere presente. Una cosa che a Locarno non penserei minimamente a quanto il tema sia rilevante rispetto al film, una cosa che a Locarno non mi interessa, a Venezia non mi interessava, mentre qui lo devo tenere presente perché il festival ha un pubblico, una storia che prevede che ci sia quell'aspetto. Tutto sta poi a giocare con gli ingredienti, invece, con la percentuale, con le fette di torta che tu hai invece in mano e di rendere, come dire, la miscela il più originale possibile. Insomma, questo secondo me è un po' la... però i contesti piccoli a me piacciono molto, cioè nel senso che dove non ci sono troppe aspettative o troppe... cioè il programma di Cannes è ormai noto per essere una storia di brazzelletta, nel senso che più o meno va, come dire, a matrice 2, non so come si dice in matematica, insomma, cioè ogni due anni, ogni tre anni, in base ai tempi di produzione, tu puoi vedere ci sono dei pattern di registi che si replicano finché non si stufano, finché non muoiono, finché non... cioè... con dei piccoli spazi lasciati a delle proposte più originali, anno per anno, che sono indispensabili, però sono sempre più ridotti. Mentre tu in un altro contesto te ne freghi della stampa, te ne freghi delle anteprime internazionali, eh? E dici io voglio fare un discorso che è su questo tema, che è su questa cinematografia e allora puoi giocare. Secondo me è lì che... per cui anche i contesti piccoli non vanno sottovalutati, perché in realtà si puoi lavorare molto di più in modo molto più creativo come curatore, come programmatore. Cioè puoi anche valutare il tuo lavoro diversamente, perché ci sono persone che dicono che, ad esempio, per un lavoro di ricerca su un certo tema, possono per esempio fare una richiesta di una borsa di studio, possono vincere uno stipendio per fare una ricerca e persone come me o che fanno lavori simili al mio possono magari, anche a livello professionale, può essere interessante, cioè dire io voglio lavorare sull'archivio degli home movies della provincia di Bari. E magari è una cosa che non andrà a Cannes, non andrà a Venezia, ma ti permette un lavoro più interessante, insomma più più... un lavoro di ricerca, ma anche un sostegno diverso. No, quindi faccio una slide così per movimentare un po' lo schermo alle mie spalle. Questo è per dirvi da questo, che era una programmazione di una sezione... ah vabbè, questo per modo di dire, scusate... che era una sezione di Venezia, il Tretto Film Festival per me è diventato questa cosa qui, che è il festival. Qui sono otto giorni, che è un po' la mia... la programmazione, sono quattro sale per ogni giorno e quattro fasce orarie per ogni sala. Per cui fate abbastanza in fretta i conti, sono quattro, sono sedici proiezioni al giorno più o meno per otto giorni, 80... insomma... 140, 160... eh... spazi di proiezione da riempire. I foglietti che vedete sono dei... sono i film, per cui ci sono proiezioni con un singolo film, proiezioni con un cortometraggio, un film, proiezioni con tre film di durate differenti e questo è il risultato finale di un lavoro che man mano si va a comporre cercando di indovinare un po' il 13 a totocalcio, se esiste ancora, insomma c'è la formula perfetta che permette di avere il film giusto, la sera giusta, che però non si sovrapponga con l'altro film che ha un tema simile, che però il regista può venire solo quel giorno lì, quindi lo devi mettere quell'ora lì apposta perché poi parte il treno, allora devi spostare l'altro, però si va a sovrapporre con un altro... c'è un film musicale, però quella sera in città c'è un concerto rock, quindi non vuoi proprio quella sera lì perché il pubblico va da un'altra parte, allora devi cominciare a pensare allora lo sposto, però poi lo sposto lo metto diciamo a un cortometraggio che in realtà quella copia di quel cortometraggio lì però mi arriva ad un altro festival, mi arriva solo a metà della mia programmazione, non devo rischiare di metterlo prima, se no il corriere è FedEx, non me lo consegna a marino orario, cioè si entra in un gioché, in un gioco, un rompicapo dal quale alla fine in qualche modo si esce sperando di aver fatto le scelte giuste, con quello che è il programma di un festival. Adesso non so quanti film passino a Bari, però insomma noi a Trento abbiamo circa 100 film in sezioni diverse, una parte sono cortometraggi, c'è un concorso internazionale, c'è una sezione dedicata al cinema che viene prodotto in Trentino Alto Adige o da autori che sono nati, sono cresciuti lì o che sono andati alla scuola di cinema di Bolzano che è una, tra l'altro se non si interessa i documentari, è un'ottima scuola di cinema, forse la migliore in Italia per quanto riguarda specificatamente il documentario, la scuola Zelig, per cui c'è anche una produzione locale a cui vogliamo dare un po' di visibilità, abbiamo una sezione di anteprime serali di film di fiction che vogliono un po' movimentare un po' la programmazione, quindi uscendo un po' dal genere del documentario per un pubblico diverso che magari vuole venire a vedere una commedia, un film d'azione, abbiamo fatto degli horror, abbiamo fatto dei film di serie B, abbiamo fatto delle retrospettive di trailer, abbiamo fatto delle cose diverse, sempre comunque che avessero a che fare con l'idea della montagna e dell'ambiente, questo per darvi un'idea un po' dell'immagine del festival, questo è l'ultimo poster dell'ultima edizione, io a Trento sono in una posizione ancora diversa perché sono le responsabili del programma, per cui sono nella posizione di decidere quello che c'è o non c'è in programma, c'è una posizione in cui non sono, ad esempio, a Locarno dove sono parte di un comitato e devo comunque rendere conto a un direttore che prende le scelte finali. Questo è un poster dell'ultima edizione, questo è un poster in un altro formato dell'edizione precedente, in questo caso c'è stato un lavoro negli ultimi anni anche di restyling un po' del festival, questi sono poster creati da giovani, no scusate, da, ah sto andando, no perché non vado, vado solo avanti, aiuto? Adesso sto andando indietro, ok, non so perché andavo solo avanti, perché abbiamo fatto un lavoro di commissione della grafica del festival, di illustrazioni disegnate appositamente da, in questo caso è un'illustratrice che si chiama Marta Iorio, di cui trovate anche dei libri pubblicati e in questo caso è invece un'artista trentina che si chiama Anna de Florian, che ha anche lì pubblicato dei fumetti e lavora a fare l'illustratrice per testate diverse per libri. Il festival di Trento, per esempio, faccio un esempio così per dare un po' il clima, questa è la location che usiamo per l'apertura del festival, che di solito è un concerto di un film muto con un accompagnamento musicale dal vivo, naturalmente la foto qui è presa nella serata di apertura, per cui la sala è piena e ci sono circa 900 persone che seguono questa proiezione concerto in questo spazio, che è lo spazio più grande che c'è disponibile a Trento, che usiamo solo in questa occasione e eventualmente nell'occasione della chiusura del festival, perché è troppo grande altrimenti per la nostra programmazione e usiamo da quest'anno, dall'ultima edizione usiamo quattro sale, la più grande è questa. Posso avere i costi del biglietto? I costi del biglietto variano, abbiamo trovato per la serata di apertura, che è un evento dal vivo, con musica, mi sembra che arrivino a un massimo di 10 euro, mi sembra. Nel caso delle proiezioni esistono dei biglietti che vanno dai 3 ai 6 euro in base alle fasce orarie e esistono però formule molto convenienti di abbonamento, di acquisto di pass per l'intera manifestazione o di pass per le serate o di pass per gli studenti, per cui c'è la possibilità di acquistare poi 10 euro. Non è gratuito il festival e gli incassi aiutano parecchio nel bilancio della manifestazione. Questa è la stessa sala vista da davanti e tra l'altro sono felice che quest'anno abbiamo cominciato a usare questo spazio che è l'unica grande multisala rimasta nel centro storico di Trento, è stata rimodernata recentemente per cui ha qualcosa anche di particolarmente cinematografico, insomma è un cinema di una volta con la galleria, non è ancora stato diviso come tutti i cinema, per fare la sala piccola e la sala grande con gli schermi che diventano più piccoli, per cui ha queste dimensioni. E poi usiamo uno spazio più tradizionale che è un piccolo multiplex in città dove comunque la sala più grande è questa che ha circa 250 posti e altre due sale perché usiamo nel massimo 5 schermi di cui uno però viene usato solo per l'inaugurazione e gli altri 4 sono quelli che vedevate in questo tabellone qui, insomma, che venivano organizzati in questo modo. Qui credo di aver messo un video, che però adesso vediamo se... Non fate anche una chiusura con premiazioni? Sì, sì, lo facciamo, sì, sì, perché c'è un... Dipende da quello che abbiamo, cioè perché per vedere me che presento i premiati non ci sono 900 persone, per fortuna, per cui ci deve essere, come dire, poi una proposta che riempia quella sala a seguire, diciamo. E poi quello, ad esempio, e questo, insomma, sono aspetti più pratici, però anche se volete tenere presenti, sono... tecnicamente, cioè, sono i formati di proiezione. Nel senso che quello lì è un grande spazio perfetto per la musica, ma ad esempio non ha l'attrezzatura per proiettare dei dcp, ad esempio, dei film in formato attuale di cinema digitale perché è una sala che è fatta per, di nuovo, ospite dei concerti, ospite al teatro e non... è difficile allestirla temporaneamente per fare delle proiezioni cinematografiche. D'altro canto, un cinema come questo... Questa sala qui è perfetta perché è un cinema che fa una programmazione commerciale per cui è attrezzato, c'ha il Dolby, c'ha tutte le strutture, ma non ha un palco praticamente per cui se io volessi avere un musicista, una performance, una lettura di un testo che si lega al film oppure una presentazione con un... eh, non lo posso fare. Per cui anche lì, in quel gioco che vi mostrevo prima, degli spazi, entrano anche valutazioni di questo tipo, insomma, degli organi tecniche, diciamo, proprio banali. Qui c'è una cosa che non funziona e adesso io non mi ricordo da questo quadrato nero da cosa doveva uscire, naturalmente. Vediamo come faccio a scoprirlo. Ah, no, no, c'è, 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 perfetto. Ah, sì, qui era... Non so perché c'è il fondo nero... Sì, audio, per piacere. Qui, insomma, abbiamo introdotto un po' la questione... No, prima di venire a questo, se mi c'è un attimo le luci, ehm... Volevo... Abbiamo parlato un po' delle tipologie di festival. Volevo passare, visto che abbiamo anche delle cose dal punto di vista organizzativo, chi li fa, come si selezionano, cosa... Volevo tornare un po' dal lato di chi ci va ai festi, chi prova a mandare un film, chi prova a partecipare con un'opera e dire un po' cosa... Quali sono gli obiettivi di andare con un film a un festival. Io ne ho messi giù alcuni. Insomma, più banali sono far vedere il film, avere l'occasione che qualcuno lo veda, che esca quindi da quell'hard disk e abbia una vita che venga condiviso. Vincere dei premi, non so, può essere d'aiuto, si vincere dei soldi, si vincere dei servizi, delle ore di lavoro in una studio di post-produzione, una... insomma, c'è la possibilità di sostenere in qualche modo una parte delle spese, ma che sono state sostenute. Essere parte di un evento, di conoscere delle persone, tuffarsi in un contesto, in un humus, in una settimana in cui, come dire, gli scambi sono favoriti dalla convivenza, dal fatto di condividere un'esperienza, di condividere degli alcolici, delle ore notturne, insomma, tante cose che rendono speciale e poi produttiva dal punto di vista umano. Le feste, le chiacchierate, le ore piccole, tutte cose che poi diventano conoscenze, rapporti, scambi di idee, critiche che possono nascere, discussioni, tutte cose che sono produttive e che non sono quantificabili, non sono le migliaia di euro di un premio, non sono, come dire, gli allori che si possono aggiungere a una cartolina promozionale del film, ma sono spesso molto... Com'è? Di vita e soprattutto utili guardando avanti, un nuovo film, una conoscenza di una persona che dice, ma sai, mi è piaciuto veramente il tuo film, non ha vinto un premio, è stato il più schifato, sono usciti tutti dalla sala, io sono rimasto fino alla fine e aggiorami quando fai un altro film, che voglio saperlo, magari ti do una mano, queste cose possono succedere, però se si incontrano le persone, per cui quello che io dico quando me lo chiedono, ai registi, andate ai festival, cioè non pensate al... Ci sono quelli che dicono, ah il mio film parla per me, è vero, però parla al passato, cioè parla di quello che... del lavoro che ti ha portato lì, ma ogni regista vuole fare qualcosa da lì in poi anche e quel discorso lo può fare solo di persona, può incontrare... può scambiare delle idee, può confrontarsi, per cui è importante esserci. Altra cosa che... Altro obiettivo, trovare una distribuzione... No, nel senso che per come funziona il sistema della distribuzione attuale, quello che ne è rimasto, i film sono comprati e decisi prima che vadano a un festival, c'è tutto un sistema di visioni, di appuntamenti tra professionisti e il mondo del cinema, per cui i film vengono visti, discussi, trattati a livello... quindi in stadi anche molto, molto precedenti e come dice, embrionali. Sulla base di una sceneggiatura, sulla base della reputazione di un regista, la svontriera, non ha bisogno di farti vedere un film a canne e poi andare in giro e chiedere a qualcuno lo vuole, qualcuno lo vuole, il film è già venduto, è già deciso. C'è poco spazio per scoperte dell'ultimo momento e poi la beffa quale può essere? E succede che il tuo film è al festival di Roma, faccio un esempio, nello stato preso al festival di Roma, tu vai a Roma e escono delle recensioni buone, cattive, incontri delle persone, incontri un distributore che ti dice ah, bello il film, peccato che non me l'hai fatto vedere prima. Ma come è peccato? ma è qua, è bello, è libero, non c'è un distributore, eh ma ormai hai già fatto il fai e lì si chiudono i discorsi perché i distributori e i produttori anche per una serie di questioni amministrative vogliono essere coinvolti prima, cioè hanno bisogno di vedere il film per primi, è un po' una questione di un rituale che va in un certo modo rispettato tra, come dire, la psicanalisi e le abitudini, come dire, di contabili dell'ufficio e un po' perché effettivamente è importante che se quella persona crede nel film e lo deve poi accompagnare e sostenere sia d'accordo su una serie di scelte che vengono fatte e la scelta di dove mostrarlo per la prima volta è una di quelle fondamentali perché magari lui l'articolo sul giornale che non è uscito lo poteva far uscire e allora dice ci siamo già bruciati il fatto che mo' come dire il Corriere non me la pubblica più la recensione perché il film è già passato e io potevo, hai capito, pensarci io perché il regista da solo spesso non ha le forze per fare tutto ed è anche bene così cioè il regista dovrebbe concentrarsi su fare i film dovrebbe avere un produttore che lo aiuta che lo sostiene nella fase di sviluppo del progetto che sa a che bandi vanno fatti a che fondi bisogna fare una richiesta a che mercati internazionali ci si può rivolgere per andare a fare un pitching per presentare il film nel frattempo il regista dovrebbe cercare di concentrarsi sul film da fare e probabilmente il film ne esce più più solido ugualmente è sconsigliabile che il film il regista vada ai festival dicendo parlo io con i broadcaster ci penso io con i produttori con i distributori l'ufficio stampa ma chi se ne frega metto in giro due cartoline no perché poi ti svegli tardi la mattina perché sei andata a una festa la sera prima ti sei perso l'appuntamento con quell'unico giornalista che ti ha detto ti faccio un'intervista insomma una serie di cose che vanno storte per cui è utile in quella fase lì che ci sia qualcuno che conosce la sua che non è un regista non deve fare il film meglio non deve fare il film al posto tuo però deve fare il suo lavoro e deve evitare che sia il regista a farlo il regista come dire è importante che che nel contesto del festival abbia quello sguardo come dire sicuro di sé sereno e non sia preoccupato come dire mannaccia ho dimenticato di mettere gli adesivi nel bagno per fare la campagna virale queste cose qui cioè tutto questo sarebbe utile che succeda senza che poi sia il regista a preoccuparsene e sicuramente succede in modo siete meglio quindi la distribuzione è un po' un punto di domanda vai quindi il consiglio è quello di affacciarsi prima a un distributore perché è curiosa questa cosa la domanda che ho fatto anche a noi in altri se ne hanno detto esattamente il contrario cioè di aspettare un festival ne hanno detto che se c'è la possibilità cioè la possibilità migliore per avere una distribuzione per un artista emergente è quello di farsi notare in un festival dove potrebbero esserci presenti sia buyers che distributori allora se ci sono veramente questi famosi buyers e distributori che tutti millantano ma che nessuno che poi sono pochi i festival che veramente ce li hanno e ti garantisco che sono pochissime le situazioni in cui quei buyers e quei distributori si fanno vedere no ma soprattutto effettivamente prendono qualcosa quei festival cioè non veramente ci può essere quel caso all'anno che funziona così ma è abbastanza raro è abbastanza raro tu puoi decidere che onestamente il tuo film non è fatto per essere distribuito non è un film che deve andare in sala ci sta è un film fatto per i festival è un film fatto per è un film non so che parla del del non so è fatto un film sul che ne so su una scuola di sordomuti di Bari e decidi che vuoi lavorare sul fatto che il film circoli tra le associazioni di sordomuti per organizzare delle proiezioni con linguaggio dei segni e viene fuori che ci sono 40 posti in Italia che lo vogliono proiettare perché è l'unico film da 10 anni in questa parte che affronti il problema della della formazione scolastica dei sordomuti e tu ti trovi con 40 proiezioni che nessuno di quei distributori lì ti avrebbe potuto garantire il sistema è completamente cambiato bisogna inventarsi e pensare che forse delle strategie distributive possono essere anche completamente diverse da quelle che non esistono più e i festival allora in quel caso lì tu puoi deciderlo non mi interessa il distributore non lo comprerà mai questo film qui mi faccio il mio festival me ne faccio uno me ne faccio due me ne faccio tre mi invento un sistema mio contatto una rete di ONG il club di aereomodellismo della Puglia perché il mio film parla di un aereo di una storia della seconda guerra mondiale in cui c'è una nella carcassa di un aereo trovata in fondo al mare e io ho raccontato capito cioè ci sono i casi ci sono di persone che non so i film di Andrea Segre Gustav Hofer e Luca Ragazzi cioè dei modelli di persone che hanno detto ok e magari poi sono arrivati a un dvd per dire sono arrivati alla distribuzione di un altro genere sono arrivati su itunes sono arrivati su vimeo on demand però dicendo quei distributori lì il mio film non lo potranno mettere su una parte perché non sarà mai al cinema come si chiama il cinema più grande di Bari non lo so il cinema galleria non ci andrà mai perché è intasato dei film del cavolo e mi invento io un percorso completamente alternativo vi faceva un esempio parlavo recentemente con una persona che lavora per la Berlinale che fa molto meglio di me questi tutoring questi workshop queste cose mi diceva che ci sono casi in cui la gestione dei film su questi canali completamente alternativi quindi festival e proiezioni proiezioni le chiamano day to date in gergo americano cioè il giorno e ora è mondo visione praticamente il tal giorno e tale ora c'è il tale film il tal giorno e tale ora il cinema che ne so io che a Bari non ci sono magari c'è la scuola più importante per bambini sordomuti in tutta la Puglia e il cinema galleria lo riempiono veramente di persone che sono interessate a vedere quel film scusa finisco e e mi diceva che ci sono casi in cui un film gestito indipendentemente solo su questo tipo di proiezioni può arrivare a fare di tariffe di noleggio perché poi mi auguro che questo regista sia anche come dire dica ragazzi io il film l'ho fatto sono molto felice però io ho bisogno di rientrare delle spese che ho avuto e quindi decide una tariffa di noleggio decidere se quella sera si vendono dei biglietti si dividono gli incassi oppure dire non so sono formule diverse minimo garantito divisione degli degli incassi ci sono film che arrivano a fatturare tra i diceva anche 50-70 mila euro da questo circuito di proiezioni che non ha niente a che vedere con la distribuzione vera e propria autodistribuzione sì non lo è però assolutamente no è quello poi di cui parliamo adesso cioè l'idea di modello di mondo visioni però lì tenete presente che è impegnativo e per un regista che magari giustamente è finito un film magari voglio fare un altro non avrà il tempo di fare questa cosa allora o ha delle persone intorno a lui in gamba che hanno lavorato la produzione che sono i social media manager del suo profilo facebook che sono i webmaster che hanno curato la campagna online e che dicono continuiamo a lavorare su questa cosa e diciamo l'agenzia di comunicazione c'è una persona che sa con i giornalisti parlare e può tenere vivo e continuare la campagna non è più una questione di oggi cos'è il 17 di dicembre domani in tutte le sale il documentario sui bambini sulla scuola dei bambini di Bari ma è questo film qui è su un tema importante che rimane attuale oggi domani fra un mese fra due anni fra tre anni e allora quel film lì comincia a girare ma c'è bisogno di qualcuno che segue questo lavoro però lì c'è un canale interessante perché specialmente quando parliamo di film prodotti a budget ridotto anche piccole cifre di quel tipo possono diventare significative nel momento in cui si tratta di andare a pagare i debiti e di pareggiare un po' i conti l'altra cosa che ho detto è contatti quindi spesso secondo me la cosa più preziosa che può uscire da un festival sono contatti per nuovi progetti e questi vanno fatti quindi niente timidezza niente no non vado lì non ho voglia di rispondere domande faccio il difficile mi si nota di più se non vado se non vado andare parlare avere sempre in tasca io mi arrabbio con i miei amici registri quando sono a berlino una cosa lui ha fatto un mio amico ha fatto un film che lo so che l'ha appena finito me l'ha fatto vedere incontro il programmatore di un festival americano che finiamo a parlare di una cosa e dico ma sai che c'è un film che devi vedere aspetta aspetta che c'è un mio amico che è qua anche lui stasera dico hai un dvd nella borsa no non li ho fatti perché vorrei strozzare perché avere sempre in tasca una chiavetta usb un dvd uno screen un link vimeo pronto si vuoi vedere il film ti mando un email adesso col telefono domani lo puoi vedere online cioè essere pronti a sfruttare contatti occasioni scambi che possono che possono nascere anche perché poi il fatto che molti di questi festival siano sempre più attivi anche sul fronte della produzione con laboratori workshop corsi tutoring selezione di progetti il pitch come ho detto così abbozzato ieri significa che quelli non sono più solo punti come dire terminali della vita del film ma possono essere anche l'inizio di un nuovo progetto per cui cominciare a essere non so avere un film a Rotterdam avere un secondo film a Rotterdam puoi essere apprezzati conosciuti dal team del festival che comincia a dire ma su cosa stai lavorando adesso cosa stai facendo ma avrai questo progetto però siamo ancora indietro beh c'è il progetto c'è un produttore prova a mandarlo nel Cinemart che è il mercato la tre giorni di Rotterdam che è uno dei punti di incontro principali dedicata allo sviluppo dei progetti e alla ricerca di partner e questo è un altro canale molto importante per continuare a far a lavorare perché ormai anche nel momento in cui il distributore tu lo trovi tradizionale di quella roba lì non campa più nessuno cioè non c'è nessuno che campa di quella cosa lì cioè il giovane favoloso non so quanti film possiamo citare che sono andati bene al cinema che dalla distribuzione hanno come dire dei ritorni che ripagano le spese che sono sempre più alte e mantengono come dire ripagano le persone che ci hanno lavorato e fanno funzionare un sistema sono molto pochi l'altro canale è i fondi i bandi gli accessi alle residenze d'artista i film su commissione i progetti che nascono su commissione perché qualcuno ti ha notato in certi contesti e il film ha come dire una storia il regista ha una credibilità per esempio mi facevo notare un paio di giorni fa a Roma a questo convegno che nel cosiddetto reference system del ministerio dei beni culturali per la valutazione dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti ci sono dei punteggi per cui questa voce vale top può volere fino a un massimo di tot questa voce può volere fino a un massimo di tot e nel complesso fanno come dire 100 punti per dire non so se sia così però più vicini si arriva ai 100 punti che è il massimo più il film scala una gradatoria e più ha la possibilità di essere finanziato il la traccia dei festival a cui il film è andato in questo sistema di valutazione vale di più degli incassi fatti al cinema per cui nel momento in cui uno va a caccia di un finanziamento magari quel film lì ha andato in sala ha incassato ma giustamente come dire il film di manzina o di turno non ha bisogno poi di andare a chiedere un finanziamento al ministero dei beni culturali vale meno del fatto che quel film sia stato in tot tot festival e sono punti che si accumulano nel poi andare a chiedere un finanziamento per un prossimo progetto per cui quello alla fine sono effetti come dire contatti e reputazione sono due elementi che non sono immediatamente monetizzabili però da tutta questa esperienza di andare a un festival sono probabilmente l'investimento più importante perché sarà stato bello quel Q&A quella sera avete fatto una conversazione l'albergo era carino e la borsa del festival la usate ancora perché è molto resistente ma non se ne sta cavando molto di più di quello insomma tutto molto bello però poi cosa serve a farvi andare avanti e magari pagare il lavoro che fate da produttori da registi facciamo una pausa che introduco però siccome tutti una cosa un po' di distensione tutti i powerpoint che si rispettano hanno un 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 grafico di flusso un'animazione una cosa seria un'infografica rispettabile ce l'ho anch'io voglio essere da meno degli altri per cui se abbassiamo le luci è in inglese anche questo però insomma l'audio c'è? ah so you're sitting at home eating ice cream and you feel gross and you're sitting at home but hey you can also drink beer gain some confidence step into a socially awkward moment and feeling I mean feelings mistakes and bots these are things we dare not to bear in public that's life life liberty pursuit of happiness for this we have our 471 cable tv channels these and saccharine and pop pellets provide us an unlimited source of artificial sweetness dividing sweetness into calories and tastiness we will have chocolate here a raw potato there this is water and this would be her neck but speaking of love which always needs maintenance this would be Mary and this would be a puppy interestingly puppies goatfish and hamsters are a reliable source where children actually learn the meaning of death and you know death taxes and spam there's just no way around it this is an obvious fact like the Easter Bunny Santa Claus and the Tooth Fairy are the first sources of religious doubt ah yes the Pope and also art and DVDs which have in common that reproduction is prohibited but not impossible reproduction is definitely impossible for all virgins there are three types of virgins a virgins by choice b virgins by poor social skills and c people who should be in group b but claim otherwise for reasons of prestige correlating prestiged time will give you a desired path and this is your actual career path the difference is why you drink but don't worry there are two options regarding your relation between the actual content of the glass and the perceived content I don't know I hope you've understood insomma l'inglese the grand content è di un regista austriaco volete facciamo una pausa sì sì che che a attir attir a attir a a che attir a a o atir a attir Grazie a tutti